Siamo qua oggi al Belvedere di Santa Maria di Licodia per concretizzare quello che è l'inizio dei lavori della Bambinopoli all'interno della Villa Belvedere. Quando sarà l'inaugurazione attesa? Sì, bene, noi oggi siamo qui per discutere con l'amministrazione comunale dei dettagli per quella che sarà l'inaugurazione ufficiale di questo parco giochi. Anche qui il nostro sotto ufficiale Larsen, anche oggi, mentre che bada i bambini con la moglie, sta continuando a lavorare, sono tutti gli attrezzi, e sta continuando a lavorare per sistemare il parco perché vorrebbe finire entro il 4 maggio. Ancora non abbiamo i dettagli, però ci stiamo accordando per fare una bellissima festa in modo da creare anche un momento storico per la comunità di Santa Maria di Licodia nella quale ci saranno sia americani e italiani con le famiglie. Quindi si cercherà di preparare del cibo americano, di avere della musica, insomma una giornata di divertimento per chiaramente ringraziare da parte dell'amministrazione e tutta la comunità di Santa Maria di Licodia, questo americano e i suoi commilitoni che hanno sistemato questo parco giochi. L'amministrazione per intanto ringrazia gli amici americani che hanno fatto il lavoro egregio e che stanno continuando completando le ultime cose. Dopodiché ci siamo già mossi con una delibera del rimborso spese su alcune cose da acquistare per poter portare a compimento questi lavori e per quanto riguarda la festa ovviamente daremo tutte le autorizzazioni e una compartecipazione personale per quanto riguarda le spese. Grazie. 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 Grazie.